Pettorino, oggi tra le altre cose si è parlato di Navemute, un libro che ripercorre la storia di un vostro collega che è probabilmente morto assassinato perché aveva scoperto qualcosa di troppo, ce ne parli? La morte del comandante De Grazia, un capitano di corvetta delle capitanerie di Porto Pardie Costiera, è avvolta ancora oggi nel mistero. Il collega stava effettuando un'indagine molto delicata con un pool di persone, coordinate da un magistrato della procura di Reggio Calabria sul traffico illecito di rifiuti con le navi. Perì tragicamente in una notte di dicembre del 1995 e da quel giorno ancora noi vogliamo e chiediamo una risposta a quello che fu questa tragica scomparsa.